Ciao! Per preparare una torta fredda al cappuccino inizia imburrando e rivestendo con carta da forno uno stampo da 22 centimetri di diametro, poi sbriciola con il mattarello 180 grammi di farollini al cacao. Usando il mattarello potrai avere un maggiore controllo sulla dimensione delle scaglie di frollini che vorrai ottenere. Se vuoi un fondo più croccante puoi aggiungere una piccola quantità di zucchero a grana grossa. Aggiungi 90 grammi di burro fuso intiepidito. Versa la granella sul fondo dello stampo e compatta con una spatola. Quindi lascia riposare in congelatore. Versa in un pentolino 50 millilitri di acqua e 140 grammi di zucchero semolato. Mescola bene e scalda fino a 121 gradi centigradi. Poco prima che lo sciroppo arrivi a 121 gradi inizia a montare 80 grammi di tuorli. Quindi versa subito a filo lo sciroppo e frulla fino a completo raffreddamento del composto. Immergi in acqua fredda per 15 minuti 18 grammi di colla di pesce. Quindi sminucca grossolanamente 50 grammi di chicchi di caffè. Versa in un pentolino 250 millilitri di latte fresco e il caffè. porta a ebollizione e quindi filtra il tutto con un setaccio. Aggiungi 3 grammi di caffè solubile e quindi strizza e scioglie la gelatina nel caffè mescolando accuratamente. Versa 300 millilitri di panna fresca in un contenitore ben freddo e monta ad alta velocità fino ad ottenere della panna semimontata. A questo punto mescolai il tutto versando in una ciotola capiente. prima il caffè con la gelatina, quindi il composto con i tuorli, è azzurro vipì. Riturare un contenitore ben freddo e i tuorli, prima i ganitori a amicurato del composto e i tuorli. Riturare un contenitore ben freddo, la fine del composto e i tamperi i tuorli. e, infine, la panna. Versa la mousse nello stampo. Livella accuratamente con la spatola e lascia in frigorifero per almeno 4 ore. Nel frattempo versa in una ciotolina 75 g di zucchero semolato, 12 g di amido di mais e una piccola parte di 200 ml di caffè espresso o alla moca. Mescola bene e quindi versa in un pentolino il composto, il restante caffè e 30 ml di liquore al caffè. Scalda su fiamma dolce e lascia addensare fino a quando il composto sfiora il bollore. Quindi lascialo intiepidire e versalo sulla torta. Lascia riposare in frigorifero per circa un'ora. quindi rimuovi lo stampo e la carta da forno e servi subito o conservalo in frigorifero fino al momento opportuno coprendo con un contenitore. Guarda il video suggerito e iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.